ciao a posta eccoci qua io sono marco io giampaolo e noi stiamo facendo una semplice autocandidatura come i prossimi concorrenti di pequeno express perché noi vogliamo partecipare sono anni che ti mandiamo le foto nostre i selfie con le schermate dei vincitori delle varie edizioni ma tu non ci hai mai notato allora abbiamo deciso di passare a una forma ulteriore e facciamo una facciamo una classifica con i 10 motivi per cui tu ci devi prendere come prossima coppia concorrente a pequeno express quindi partiamo subito 1 la prima la più importante siamo zio e nipote il tuo onore in tuo onore faccio un minuto questo 2 non siamo famosi ma non saremo mai mai come i pizza ma che quindi anche in questo ripercorreremo le tue gesta 3 noi vogliamo esportare la cultura italiana all'estero 4 però non esporteremo gigi d'alessio assolutamente 5 noi siamo una coppia perfetta perfetta perché lui ride lui canta lui balla lui corre lui prende passaggi lui mangia le schifezze i sette mostri tutto quanto e io lo vincito vabbè 6 perché abbiamo una schiena rotta quindi vi faremo ridere tantissimo tantissimo e lavorare tanto il medico vabbè e poi possiamo essere anche degli artisti lui dipinge io scrivo possiamo essere multitasking si poi 8 perché siamo arrapati 9 concentriamoci su questo cioè noi siamo disposti anzi quasi ci farebbe piacere a farci tatuare anche in diretta ma realmente tatuaggio vero il simbolo di pequeno espresso questo tutte queste cose per te quindi noi siamo pronti speriamo ci chiami aspettiamo la chiamata grazie mille ciao grande ma abbiamo detto 10 abbiamo detto 9 l'ultimo 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 e poi 10 sei vagrissimo grandissimo ci vediamo presto ciao